musica 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 nooo nooo dovevo aspettare cazzo e che cazzo una sola cosa mi chiedo se con questa squadra merda ce la potremmo fare vabbè io ho resistito fino che ho potuto ovviamente non posso resistere all'infinito purtroppo però adesso non facciamoci recuperare recuperiamo un po di vita speriamo ci riusciamo perché già ci attaccano vabbè siamo partiti a popola di cazzo proprio ce l'abbiamo fatta che dio ci è benedita guarda questa squadra di cacca giochiamo tutte e tre attenzione ho fatto una partita di nuovo con questa squadra vediamo se questa volta c'entra bene a dire dei personaggi direi di no a vedere i personaggi attenzione perché li abbiamo recuperati e li abbiamo anche raddoppiati e vabbè abbiamo capito una partita che ce l'hanno regalata praticamente non hanno fatto niente speriamo di trovare compagni buoni non ce la faremo mai con questa partita non ce la potremo mai fare è impossibile loro già hanno superato la metà ma noi stiamo ancora all'otto per cento cerchiamo di resisterti qua che è in breve vabbè una parola da smirata si culo culo merda culo cazzo merda culo bene vaffanculo questa è un'idiozia Grazie a tutti.